... Occhio ai giornali di lunedì 13 giugno 2022, buongiorno, ben ritrovati a tutti cari telespettatori di Fanotv sintonizzate sul canale 19 del Digitale Terrestre, in alta definizione in HD su tutta la regione Marche, c'è alle 7 del mattino dal lunedì al sabato l'informazione in diretta con la lettura dei giornali, il commento alla stampa del giorno, appunto Occhio ai giornali, che come sempre comincia con l'aprire l'almanacco, sfogliarlo, dare un'occhiata al sole, alla luna e soprattutto al santo del giorno, oggi vedrete un santo famosissimo, Sant'Antonio da Padova, quindi facciamo gli auguri a tutti quelli che portano questo nome e soprattutto una preghiera a Sant'Antonio. Il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà questa sera alle 20.52 minuti. Adesso vi porto subito a Porto San Giorgio invece, dove c'è questa splendida immagine del mattino in diretta, come vedete, dalla webcam su questa spiaggia che ancora si deve animare, ma che vede la presenza di qualche persona che sta facendo un po' di attività mattutina, un po' di jogging, un po' di passeggiate, insomma, poco gente in realtà sulla battigia, ma come dicevo, vedete, c'è ancora, questo è il primo sole, come si vede, ma guardate che spettacolo con queste palme, sembra di essere in un altro paese. In realtà siamo nella nostra bellissima regione, la regione Marche, che snobbano, però siamo la seconda regione, siamo una delle regioni più belle del mondo, almeno stando a qualche classifica quotata. Allora adesso invece torniamo a nord della nostra regione perché andiamo a collegarci con la spiaggia di Fano, qui siamo invece con il nostro Tommy, dal quale tutto è cominciato qualche anno fa, con l'abitudine durante l'estate di collegarci. Buongiorno Tommy, come stai? Bene, bene, a te Marco come stai? Bene, grazie, allora vedo che anche tu sei, insomma, sei già in operativo lungo la spiaggia, allora ci fai le previsioni del tempo per questa giornata, anche a beneficio dei nostri turisti che ci seguono al mattino? Certo, oggi giornata bellissima, prevediamo Marco, anche nei prossimi giorni, partiamo già con un mare piatto in bassa marea, quindi prevediamo una bellissima giornata per oggi. Ecco, la temperatura, perché al mattino ancora è un po' freschino mi pare. Sì, è un po' freschino però io sono in maniche corte e sto bene, c'è una leggera brezza fresca ma si sta bene. Ecco, volevo chiederti una cosa a proposito, Tobi, ma è vera la voce, o meglio, è raggiunta notizia che qualche giorno fa avete fatto uscire tutti dall'acqua perché si era intravista una pinna in mare, una cosa del genere, è vera questa cosa? Eh sì, è vera questa voce, ci sono tante foto, tante segnalazioni, non abbiamo fatto terrorismo psicologico, non abbiamo fatto uscire gente da dentro l'acqua, però ci sono arrivate tante foto di queste pinne e è stato un argomento di discussione del weekend, questo sì, però non abbiamo creato allarmismi insomma in spiaggia. Ecco, ma speriamo che fossero dei delfini insomma più che altro. Sì, sì, sicuramente sì, Marco, ma poi da noi perlomeno era abbastanza lontano. Ecco, quindi fare il bagno con i delfini insomma non è da tutti in questo caso. Eh, si mancherebbe. Va bene, allora intanto grazie anche per questa inquadratura, noi ci vediamo domani mattina per continuare questa nostra chiacchierata che si proterrà fino a sabato, va bene? Grazie allora. Benissimo, grazie, buona giornata. Tommy il bagnino dai Bagnicarlo che si trova appunto in Sassonia a Fano. Adesso a proposito di spiagge, mentre a Fano abbiamo visto insomma la spiaggia era ordinata e quant'altro, insomma a Pesaro ancora c'è il problema delle ruspe che sono in spiaggia per garantire il ripascimento, ovvero la sistemazione di alcuni tratti che sono stati divorati da ben due mareggiati. I bagnini addirittura prevedono che si andrà avanti fino al 15, quindi ancora per qualche giorno e per affrontare anche problemi come questo, del ripascimento e quant'altro, le associazioni dell'indotto turistico di Pesaro hanno alcuni giorni fa presentato una richiesta formale all'amministrazione guidata da Matteo Ricci per istituire la prima consulta del turismo. Adesso andiamo a vedere invece le prime pagine dei quotidiani, oggi essendo lunedì il Carlino esce, come vedete, con un'impaginazione che riguarda tutta la regione Marche, quindi avremo le varie province, allora cominciamo da quella di Ancona dove in primo piano c'è il referendum sulla giustizia, snobbato, intanto abbiamo oggi 17 nuovi sindaci, elezioni comunali, Iesi e Fabriano verso il ballottaggio, a Civitanova vince la stensione, a Pedaso brinda Berdini. Poi invece a Macerata la cronaca con un incidente mortale dopo la festa, un 21enne muore davanti agli amici a Camerino, Samuele Micarelli era su una 500, una 500 con altri tre ragazzi, lascia un fratello gemello, il padre lavora alla Sampa, una squadra di calcio con mister Giampaolo. Poi sotto invece da Pesaro, ragazza stuprata fuori dalla discoteca, cattolica, arrestato un giovane, si erano conosciuti in pista, nella pista da ballo, la denuncia di lei, lo imploravo di smettere ma non mi ascoltava. Poi il caos di venerdì notte, Maxi Rissa, la rabbia degli albergatori, siamo sempre a Pesaro, allontanare i giovani. E poi ancora altre notizie dalla prima pagina del Carlino Marche, da Matelica precipita dalla finestra, era stata chiusa dal marito, lei voleva fuggire. E poi ancora l'aggressione in centro ad Ancona, ho visto i bulli, lo insultavano dicendogli che era obeso, che era grasso, è stato in qualche modo salvato da una persona, da un testimone che era lì, che poi ha chiamato i carabinieri. E poi la notizia di un uomo che molla tutto, molla il lavoro a Milano e diventa prete, la vocazione di Giuseppe. Andiamo adesso invece sul Corriere Adriatico. In apertura la notizia che vi ho dato subito dopo il collegamento appunto con la spiaggia di Fano. Ancora ruspe in spiaggia, questa è l'apertura di oggi del Corriere di Pesaro. Ripascimenti in corso fino al 15, Bagnini protestano, grandi ritardi e lavori fatti male. Le associazioni del turismo scrivono all'amministrazione, vogliamo una consulta del settore. Poi a centro pagina invece la cronaca, stupro a Cattolica, arrestato un ragazzo di 22 anni, mi ha violentata nel parcheggio. Buone notizie invece per alcuni fondi in arrivo dall'Europa, c'è un extra di 400 milioni di euro per le marche e questo perché? Perché le marche sono state retrocesse dal gruppo delle regioni più sviluppate a quelle in transizione e questo passaggio vale alle marche appunto circa 400 miliardi di euro in più nella prossima programmazione dei fondi europei rispetto al settennio 2014-2020. Sotto invece vanno a fuoco i rifiuti e allarme a Calucio, la discarica, intervengono i vigili del fuoco da tre sedi, accertamenti dell'ARPAM per controllare insomma che non ci siano inquinamenti nell'area e quindi sulle emissioni. Poi lo sport, la WL, il basket, Caixa in pole ma c'è anche Dalmonte. Entriamo nelle pagine interne, ripartiamo da questa terribile notizia che arriva da Macerata, tragico fuoristrada con l'auto, titola il Corriere di oggi, muore a 21 anni, feriti, tre amici, la vittima è Samuele Micharelli, il figlio è il figlio di Fabio, componente dello staff tecnico della Sampdoria, tornava a casa dopo aver partecipato ad una festa di laurea, insieme al fratello gemello Emiliano, lui era anche cantante, rap. Il resto del Carlino invece schianto nella notte dopo la festa di laurea, muore un ragazzo di 21 anni, feriti tre amici, tragedia a Camerino, la vittima è Samuele Micharelli, il papà Fabio è nello staff tecnico di mister Giampaolo alla Sampdoria, oggi l'addio a San Venanzio, proclamato il lutto cittadino, per chi volesse dargli appunto l'ultimo saluto e saranno sicuramente in tantissime alle ore 15 e 30 nella Basilica di San Venanzio, il commissario prefettizio De Biagio ha proclamato un giorno di lutto cittadino. Ancora la cronaca con la moto nella scarpata, soccorso in elicottero, un centauro precipita per circa 10 metri in località San Paolo, portato poi al Torrette di Ancona. Sono notizie che arrivano da San Severino, c'è stato questo incidente sulla strada sterrata, l'allarme lanciato da un amico. Poi torniamo invece a Pesero, dal Carlino stuprata, dal ragazzo conosciuto in discoteca, lo imploravo di smettere, lui però continuava denuncia di una ventenne residente in provincia, l'aggressione fuori dal Malindi, che è una come dire, un locale, una discoteca sulla spiaggia di Cattolica, molto frequentata anche soprattutto dai giovani. Lei, questa ragazza, era andata a trascorrere la serata con altre due amiche, intanto in manette finito un muratore albanese di 22 anni che stra a Vallefoglia, in provincia di Pesorbino, la vittima al pronto soccorso di Rimini, riscontrate, ferite compatibili con la violenza. Questo è il racconto, poi c'è tutto l'articolo di Manuel Spadazzi sul Carlino di oggi. Movida shock, sempre dalle colonne di Pesero, la rabbia degli albergatori, così i turisti scappano dalla città dopo la rissa di venerdì notte, le reazioni. Costantini, dell'Associazione degli Albergatori Pesaresi, dice la situazione degenera, servono rimedi. Il titolare del Fleining dice spostare i ragazzi lontani dagli alberghi, sabato zona pattugliata, invece tutto ok. Ora, non si riesce a capire chi dà l'alcol ai minorenni, si rischia che qualcuno ubriaco vada a fare il bagno e poi affoghi, ma in realtà non c'è bisogno di arrivare a fare il bagno ad affogare perché, guardate qua, sotto questa fotografia dove c'è, leggendo la didascalia, Stefano Tombari, titolare dei bagni Gilberto che posa con il fotografo davanti ad una macchia di sangue residuo della rissa di venerdì notte. E c'è un frame, ovvero un fermo immagine, questo qui, di questa rissa di venerdì notte che appunto testimonia quello che poi è successo e che viene raccontato attraverso i risultati che abbiamo sotto gli occhi di tutti. E anche questo, le risse ci sono sempre state, chiaramente non è una novità, ma quello che sta avvenendo, soprattutto tra i giovani, questa rabbia, a volte anche incontrollata, che hanno questi giovani, giovanissimi, sono i primi effetti di quello che è stato lo scellerato lockdown, che hanno inventato questi geni della politica, soprattutto il primo, e che tanti danni ha prodotto e i quali effetti li stiamo cominciando a vedere, ma insomma questo è solo l'inizio. Chiaramente gli adulti non si mettono a fare a cazzotti, oddio, qualche volta succede anche questo, ma spesso finiscono dallo psicologo, tant'è che hanno studiato anche questo bonus adesso per appunto agevolare le visite psicologiche. Insomma questi sono i risultati che adesso vedremo nel corso dei prossimi anni. E quindi andiamo avanti, vediamo quello che succederà. Intanto due nuove telecamere per monitorare le zone calde, lo annuncia l'assessore alla sicurezza del Comune di Pesaro, Enzo Belloni, che dice spero che entrino in funzione entro l'inizio di luglio. Mentre la questione del referendum, com'è andata nelle Marche? Beh, è un po' come nel resto d'Italia. Giustizia è il flop del referendum, sei comuni verso il ballottaggio. Per i cinque quesiti, perché si è anche votato per eleggere i nuovi sindaci e i consigli comunali, per i cinque quesiti proposti da Lega e Radicali, il quorum resta un miraggio. Ci si ferma al 14%. Porto San Giorgio oggi invece conoscerà il sindaco, a Frontino già eletto il primo cittadino che adesso andiamo a conoscere attraverso il resto del Carlino, il Correo Adriatico, scusate, attraverso questo articolo di Roberto Giungi. Eccolo qui, il primo cittadino di Frontino, confermato dagli elettori, si chiama Andrea Spagna ed era l'unico candidato in questo paesino che è uno dei borghi più belli d'Italia. Io sono andato a vederlo qualche tempo fa e devo dire molto molto bello, un po' incastonato, insomma in mezzo, siamo vicini al Carpegna tanto per intenderci, però insomma veramente abbiamo dei posti straordinari, bellissimi, nell'entroterra. Già alle 19 i votanti superavano la metà della metà, il quorum del 40%. Poi sempre in provincia di Pesurbino c'è Terre Roveresche, la sfida è tra Marcucci e l'uscente Sebastianelli che ha fatto aumentare anche l'affluenza alle urne. E allora vediamo poi, insomma, stasera nel corso del telegiornale vi daremo un po' il raguaglio e vi diremo come saranno andate anche le elezioni amministrative. Intanto il Corriere Adriatico questa mattina pubblica una pagina intera sulla Macerata Loreto, la straordinaria, bellissima, suggestiva e faticosa anche per chi l'ha fatta soltanto una volta e non è allenato, marcia della pace, la marcia appunto da Macerata a Loreto che si svolge durante tutta la notte. Alle 6.20 ecco i pellegrini a Loreto. Guardate queste due fotografie. Abbiamo camminato con fiducia durante la notte preghiere, canti e testimonianze e l'appello per la pace a Putin e Zelensky. Altre immagini, altre fotografie di questo momento di grande fede. Guardate questo fiume di gente. Naturalmente sono partiti in 2000, poi in tanti si sono aggiunti durante il percorso e all'arrivo sono stati accolti anche dal Cardinal Zuppi. Mentre le parole di Gemma Calabresi, la moglie del commissario assassinato nel 1972, sono inserite in questo articolo di Luca Patrassi sul Corriere di oggi. Restando sul Corriere, la pagina di Fano invece si occupa in particolare dei divieti di sosta, degli stalli blu che continuano ad essere per lo più snobbati per non pagare i 10 euro della tariffa piena che consente quindi agli automobilisti di stare lì tutto il giorno e quindi di andare anche al mare. Per qualcuno 10 euro sono tanti e insomma fatto sta che, secondo, basta guardare un po' le fotografie, qui sotto ne abbiamo una in particolare, questa qua vicino al porto di Fano, era quasi vuota l'area di sosta vicino al Lido. Mentre qui, in quest'altra fotografia, alcune auto lasciate in divieto di sosta. Autoveicoli dunque in divieto, ma gli stalli blu invece restano liberi. I residenti della zona mare sono soddisfatti della regolazione a pagamento dei parcheggi. Mentre resta, e se ne parla qui anche in questo articolo di Massimo Fovetti questa mattina, resta ancora il problema, ma questo è ormai cronico, insomma c'è tutti gli anni, tra Fano e Pesaro, sottomonte in quel tratto di stada della Stratale, dove tra l'altro vi ricordo che c'è anche il limite di velocità con il tutor che calcola la velocità media da punto a punto, che è dei 70 km orari, ma in quel tratto lì effettivamente il pericolo c'è sempre ed è sempre in agguato. Però ormai, insomma, diciamo che la gente per andare in spiaggia alternative non ne ha. Intanto da Marotta sventola la bandiera blu, spiagge libere ora sicure, potenziate il servizio di salvamento e la raccolta differenziata installate anche le docce. Dunque sventola su tutto il litorale marottese, questa bandiera blu, l'amministrazione comunale l'ha consegnata al Presidente dell'Associazione Bagnini Cesare Rossi e ai 17 stabilimenti balneari in occasione della consueta cerimonia che si è svolta nella splendida cornice del molo di Marotta. E poi un defibrillatore, un defibrillatore alla portata di tutti, installato all'esterno della palestra distretto 7 nella strada di Mezzo. È un defibrillatore H24, quindi sempre operativo all'esterno di una palestra. Per quanto riguarda invece la notizia di quella morte sulla quale inizialmente si pensava ci fosse un giallo, ma in realtà poi questo giallo è diventato sempre più sbiadito, quindi fino ad essere un bianco tranquillo, perché la morte di questa povera donna era causata di morte naturale. La verità però oggi arriverà dall'autopsia, in casa c'era il compagno in uno stato confusionale. Comunque, prime risposte per risolvere il giallo di Barchi sono attese oggi dall'autopsia, l'ipotesi prevalente resta quella del decesso per cause naturali o accidentali, ma l'inchiesta condotta dai carabinieri di terre novedesche e dalla compagnia di Fano deve cercare di capire, di fare chiarezza su perché Giannina Fucili di 67 anni è deceduta ed è stata trovata morta dopo alcuni giorni. Si trovava in casa, in piazza Terzi, insieme al compagno Antonio Pazzaglia di 80 anni. La donna casalinga è stata trovata con il corpo in avanzato stato di decomposizione sul divano dai primi soccorritori. Come si è procurata le ferite e come ha perso il sangue che il 118 e i vigili del fuoco hanno trovato per prime quando venerdì scorso sono entrati in appartamento? Lo dovrà spiegare appunto l'autopsia. La ziana ha avuto un malore, forse caduta oppure è rimasta ferita per un'aggressione? Insomma, sono tutte domande che al momento ecco, non hanno una risposta ma chiaramente poi gli inquirenti dovranno cercare di far luce, sulle quali dovranno far luce. Intanto da Urbino il Corriere questa mattina pubblica ancora una bella immagine di un altro evento sportivo che ha richiamato veramente tante persone, tanti ciclisti, la Straducale. Festa non solo sportiva, tanti a Urbino per la prima volta il commento soddisfatto del presidente della Ciclo Ducale. Al via c'erano quasi 800 turisti e poi vanno a fuoco i rifiuti nella discarica, scatta l'allarme, a Calucio intervengono i vigili del fuoco con otto mezzi e rilievi eseguiti dall'ARPAM. Lascia il lavoro, questa è una storia che arriva da Ancona nella pagina di oggi delle Marche, lascia il lavoro e diventa prete, Don Giuseppe Luigi Rella ha scoperto la sua vocazione a 43 anni, ordinato presbitero dal Vescovo Spina. Era dipendente di un'azienda di telecomunicazioni a Milano, poi la scelta di cambiare tutto e diventa prete a 50 anni. L'arcidiocesi di Ancona Osimo ha dunque un nuovo sacerdote, la cerimonia è avvenuta in cattedrale a San Cirioco per mano del Vescovo Angelo Spina. Sette anni fa, all'età di 43 anni, ha deciso di lasciare il lavoro, la famiglia, la sua città per entrare in seminario, mentre proprio lavorava a Milano in un'azienda produttrice di apparati per telecomunicazioni. Ha conosciuto un movimento che si chiama Gloriosa Trinità e che è stato decisivo nel suo percorso di ricerca vocazionale. Poi non a caso ieri è stato ordinato nel giorno in cui appunto la Chiesa ha celebrato la solennità appunto della Santissima Trinità. Allora andiamo a vedere adesso invece, andiamo a vedere adesso le altre pagine. Ecco, siamo sulla cronaca di Senigallia, guardate questa immagine, quest'auto senza il cofano, addirittura adesso rubano i cofani, cioè una volta si rubavano le autoradio dalle macchine, uno doveva chiuderla bene, fare attenzione perché al massimo ti portavano via l'autoradio. Adesso invece portano via di tutto, qualunque cosa, addirittura i cofani, bici rubate lanciate invece sulla statale, auto senza pace, blizze contro una Fiat Punto vicino alla stazione, task force della polizia, giovani neguai invece per droga. E poi addio a Carbone, Tonino Carbone, ex poliziotto e sentinella al vivere verde, Tonino ha creato una chat per segnalazioni antifurti, i funerali si terranno domani alle 10 nella chiesa della pace a Senigallia. Siamo nelle pagine sportive, allora Mosconi, chi è Mosconi lo vedete in questa immagine, il nuovo allenatore del Fano Calcio, ieri ha assistito alla partita dell'Under 17 tra l'Alma e la Lodigiani, persa dall'Alma 1-0, intanto la società sta ragionando sul direttore sportivo, dando per scontato l'addio di Califano. Sta circolando il nome dell'ex capitano Granata Maranti, come possibile appunto direttore sportivo. Mentre il Carlino titola così, Fano e i tifosi benedicono l'arrivo di Mosconi, commenti positivi dopo l'annuncio del nuovo tecnico, finalmente un allenatore d'esperienza e una scelta nei tempi giusti, buona dunque la partenza dopo le tensioni della scorsa stagione, sprazzi di sereno tra società e sostenitori. Poi andiamo a vedere l'ultima pagina che riguarda invece la VIS, il titolo VIS, il centro sportivo è da medaglia d'oro, l'ex direttore sportivo Leonardo dice vederlo finito sarebbe il capolavoro di Bosco, le strutture sono decisive per crescere. Allora questa è l'ultima pagina che abbiamo selezionato per voi in questa nostra rassegna stampa del mattino, rassegna che tornerà domani mattina come sempre alle 7, vi ricordo questa sera alle 20.30 il nostro telegiornale Occhio alla Notizia, il quale potrete collaborare inviando le vostre segnalazioni al numero che vedete in questo momento sul vostro televisore. A me non resta altro dunque che augurarvi una buona giornata, arrivederci.